Il volto sorridente di un bambino che sul suo cavallo salta un ostacolo è il volto tragico, criminale di un contesto anche familiare di mafia e di violenza. La intitolazione di questo splendido campo, al ricordo del piccolo Di Matteo, è stata un'occasione per confermare la prevalenza di una cultura di vita nei riguardi di una cultura di morte, per dire no a un sistema di potere criminale mafioso che aveva il volto dello Stato e delle istituzioni e che mortificava i valori fondamentali della vita, l'amore, la famiglia, i bambini, la pace e la convivenza civile. Tutto questo in un indimenticabile giorno, nel quale abbiamo intitolato questo spazio insieme con Rita Borsellino e con Antonio Caponnetto. E distanti da noi, appartati, con una profonda tristezza, il nonno e la nonna del piccolo Di Matteo. La testimonianza di una società, di una famiglia, di un contesto che aveva operato secondo metodi mafiosi che stava raccogliendo le conseguenze di una violenza imposta agli altri e adesso drammaticamente subita.